Meteograd. Le previsioni meteo sempre con te. Segui ora il canale e lascia un mi piace. Grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per sabato 29 giugno 2024. Il promontorio mobile anticiclonico di derivazione nord-africana che sta esistendo sul Mediterraneo centrale con asse verso la nostra penisola, inizierà ad essere scalfito da ovest dal flusso umido e perturbato ascendente derivante da un'area depressionaria in azione sulla penisola iberica. Di conseguenza tale promontorio sarà costretto a ripiegare verso sud-est. Si conferma ancora una volta la natura dinamica di quest'estate 2024, dominata da frequenti oscillazioni del getto perturbato nord-atlantico e priva di anticicloni stazionari. Previsioni meteo in area italiana per sabato 29 giugno 2024. Nord, mattinata all'insegna dei cieli parzialmente nuvolosi, con tendenza ad un rapido aumento delle nubi iniziando da ovest che sarà accompagnato da temporali. La fenomenologia si estenderà verso est nel corso del pomeriggio, interessando principalmente le zone a nord del Po. Attenzione! I temporali a tratti risulteranno intensi ed accompagnati da downbraste grandinate. Centro, stabile e soleggiato con tendenza ad un aumento delle nubi di tipo medio-alto, più compatte al centro-nord. Nel pomeriggio non sono del tutto da escludersi locali temporali sull'appennino settentrionale. Farà abbastanza caldo nelle pianure interne più riparate. Sud e isole L'asse dell'anticiclone subtropicale insiste sulle regioni meridionali a garanzia di bel tempo con clima caldo e localmente affoso. Soltanto sulla Sardegna assisteremo al passaggio di qualche nube di tipo alto. Temperature massime in diminuzione al nord in occasione dei temporali. Nel complesso stazionari altrove con clima caldo ed affoso nelle pianure interne, dove si raggiungeranno punte di 35 gradi Celsius. Minime in generale aumento. Valori superiori alla media con termiche oltre la 20 ad 850 etto pascala al centro-sud e sulle isole. Ventilazione debole a dominante settentrionale con rinforzi in area basso-adriatica e ionica. Dal pomeriggio rotazione dei venti da sud-ovest in area tirrenica settentrionale. Mari da poco mossi a mossi, specie sullo ionio ed alto tirreno. Tendenza in area italiana per domenica 30 giugno 2024 e lunedì 1 luglio 2024. Tenderà ad indebolirsi ulteriormente il promontorio mobile anticiclonico di natura subtropicale sotto la decisa spinta del getto ascendente legato ad una configurazione depressionaria fresca ed instabile sul comparto iberico. Il tutto si tradurrà in condizioni instabili che interesseranno principalmente il nord domenica e si propagheranno al resto delle zone da lunedì, quando si formerà una circolazione depressionaria sulla nostra penisola. In tale frangente si avranno forti e diffusi temporali su tutto il nord, verso l'area centrale. Possibili grandinate e downbrust. Crollo termico lunedì con venti in rinforzo. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni e giornate.